ciacca in campo Sancia e Pancia prima azione via Sancia e Pancia aspettando Don Quixote è il blog che vedrete su blog Sicilia insomma andremo in giro per le strade di Palermo Sancia e Pancia, la ricerca del Don Quixote che è racchiuso in ogni animo palermitano noi abbiamo pensato una cosa che era il momento di ritornare per strada e sentire il palermitano la realtà è proprio per la strada parida, parliamo di caso noi pensiamo che avete molte cose da dire molte lamentele da fare e noi saremo i vostri scudieri Pancia e Sancio noi vogliamo dare voce a tutti i palermitani che non hanno voce quindi quando in questi giorni ci vedrete per le vie di Palermo e ci vedrete perché insomma ci noteranno penso proprio di sì, con due improbabili scudieri Sancia e Pancia saranno nelle strade, nei vicoli, nei trasiedi di Palermo andiamo a raccogliere le impressioni le voci che si alzano dalla strada ma saremo pure, che so, andremo all'Inps andremo nelle ASL andiamo a raccogliere alla serie a raccogliere le vostre impressioni e le vostre lamentele voi sarete i Don Quixote i mulini a vento sono tutte le cose che non vi stanno bene in questa città bellissima però un po' martoriata Martoriata Blog Sicilia Sancia e Pancia aspettando Don Quixote vi aspettiamo numerosi e aspettateci pure voi per strada saremo a vostra disposizione già l'hai detto ciao a disposizione a disposizione avete l'avevo detto ciao Sancia e Pancia a disposizione